Ciao a tutti! Oggi vi mostro come poter raccogliere lateralmente i capelli con una treccia a quattro ciocche. Dalla zona frontale prendiamo una sezione di capelli e la dividiamo in quattro ciocche. La prima la facciamo passare sopra la seconda, sotto la terza e sopra la quarta. Quest'ultima la faremo passare sopra la seconda. Dal secondo incrocio in poi aggiungiamo sezioni di capelli sia dall'alto che dal basso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Dopo aver bloccato la treccia con un elastico in silicone, nascondo la parte finale nella zona posteriore della testa sotto i capelli. La fermo con una forcina e imbargo le sezioni del matreccio. grazie a tutti! Grazie a tutti! e se volete mi potete seguire anche su Facebook, Twitter e Instagram. e se vi va alla prossima! Ciao!